Gentili telespettatori, buona giornata. Le parole di Conte con un doppio, forse un doppio significato, quando dice il PD non può risolvere le cose con i giudici. Di che cosa starà parlando? Ma andiamo per ordine. Dopo lo strappo con il Partito Democratico, con gli scandali in Puglia, in Piemonte, nel Lazio, in Sicilia, Giuseppe Conte ha strappato con Elena Schlein elezioni europee, qui c'è l'occasione per attaccare il PD, voti di scambio, votopoli, truffopoli. Non c'è mai stata la fine della Prima Repubblica. La Prima Repubblica ha continuato ad esistere. Dice Conte, credo che il concetto di lealtà debba essere maneggiato con cura per l'igiene della politica. Dobbiamo essere leali con i cittadini, leali e coerenti con i principi e i valori che professiamo tutti noi politici quando andiamo in tv e declamiamo gli slogan. Quindi, di fronte a scandali, di fronte a inquinamento, perché non stiamo parlando di inchieste che riguardano genericamente casi isolati, ma di fronte a inchieste che vanno a toccare proprio l'inquinamento del voto, lo scambio politico-elettorale, eccetera, le infiltrazioni anche della malavita, se la politica mette la testa sotto la sabbia, non è leale e fedele alla parola data, ma è una politica malata. E poi dice, aggiungendo Conte, con Schlein non ci siamo sentiti, ma non ne facciamo una cosa personale, dobbiamo smetterla di dare questa rappresentazione di litigi tra i leader, quasi fossero una questione di orgoglio personale. Qui parliamo di questioni politiche, parliamo di principi, di valori, li vogliamo realizzare e perseguire, o semplicemente vogliamo ridurre tutta la politica a slogan? Si fa questa domanda retorica a Giuseppe Conte e poi arriva il punto più importante. In un'intervista il Fatto Quotidiano aggiunge Il punto è ciò che vuole fare la segretaria Dem rispetto ai gravi episodi che hanno toccato il PD. Bisogna stabilire se vogliamo che sia la magistratura a decidere le sorti della politica o se invece la politica possa e debba avere un sussulto di dignità. Allora, c'è un doppio significato a questo. Quello che lui dice è bisogna capire e stabilire se è la magistratura che condiziona la politica, quindi aspettiamo che sia la magistratura a dire colpevole, colpevole, c'è un sistema, votopoli, quindi la magistratura che decide le sorti della politica o invece è la politica che decide prima che arrivi la magistratura, prima che scopra votopoli, truffopoli, tutte le varie cose, i partiti decidono di allontanare queste mele marce in politica, di capire le cose prima che avvengano. Questa votopoli, guardate che è diffusissima, è diffusa in tutte le regioni, la compravendita di voti è diffusa in tutte le regioni e non è solo nel PD. Adesso tutti vanno addosso al PD, ma non è solo il PD. Voi non avete idea quanti partiti comprano i voti, è che solo adesso hanno scoperto il PD. Magari fra dieci giorni ne scoprono un altro partito. Tanti casi, una volta la Puglia, una volta Napoli, una volta Bari, sembrano dei casi isolati, ma sono gli scogli che emergono dal mare, ma sotto è pieno di queste cose qua. Poi ci può essere anche un secondo significato. Vogliamo che sia la magistratura a decidere le sorti della politica, lì si può interpretare anche con il significato che il PD si appoggia sempre così a quella magistratura politicizzata di cui ne ha parlato ampiamente Luca Palamara nel libro Il Sistema, scritto con Sallusti. Cioè Palamara, invece di andare in galera per cospirazione contro lo Stato, ha scritto un libro. E questo succede nella Repubblica of Bananas. E certo, certo. In un altro Stato l'avrebbero processato per direttissima, per cospirazione contro la Repubblica. Invece in Italia che fai quando ti scoprono? E scrivi un libro con Sallusti. E' così che funziona, no? O magari poi si è candidato al Parlamento, adesso si candida a quello europeo. Eh, uè. Cospiri contro la Repubblica e diventi europarlamentare, magari. E' così che funziona? Eh, sì. Eh, non avete ancora capito come gira il mondo in Italia? Come gira l'Italia in Italia? Bene, quindi il secondo aspetto è proprio quello della magistratura. dove il PD cosa aspetta? Che la magistratura gli scopra gli infedeli, quelli che comprano i voti? Oppure il PD aspetta che la magistratura faccia fuori politicamente gli avversari? Tipo Salvini, Berlusconi, Craxi, eccetera, eccetera. Ecco, quindi la domanda di Conte è il PD aspetta sempre i magistrati? Ecco, ma siamo sicuri che nel PD questa compravendita dei voti non era una cosa già risaputa? Come dire, vabbè, dai, lo sappiamo tutti, tutti i partiti, i politici locali si assicurano i voti, lasciali fare. Siamo sicuri che nel PD già non sapevano? Volete dire che questi RAS locali compravano voti a insaputa dei partiti? Cioè i partiti italiani non immaginavano che ci sia una compravendita di voti? Votopoli? Io credo, mio parere personale, che tutti i partiti sanno che può capitare che i propri candidati cerchino voti in maniera magari non proprio legale. faccio finta di non sentire, di non vedere. Hai stato eletto, che bravo, applausi! Ma come li ha presi i voti? E chi se ne frega, intanto è stato eletto. Ecco, io credo che funzioni così in Italia. Poi quando si scopre a Bari Oh mamma, votopoli! Come se tutti cadessero dal pero. Ecco, invece... Avete sentito la russa che l'altra sera da Del Debbio diceva 50 euro un voto, ma come tutto sale? E invece il costo di un voto scende? Come se lui fosse a conoscenza, come se i politici sapessero perfettamente che i voti costavano più o meno 50 euro a voto. Dice, ma come come? Questi 50 euro sono sempre gli stessi da dieci anni, non crescono mai? Cioè le cose costano di più i 50 euro? A me ha dato l'impressione che lui, come tutti i politici, sappiano che i voti costano 50 euro l'uno. Vuoi mille voti, devi spendere 50.000 euro. Ecco. Che poi per le elezioni locali bastano anche pochi voti per essere eletti, non ne serve chissà quanti. Grazie a tutti e arrivederci a presto.